Non solo imprenditori, da adesso ConfCommercio rappresenta anche i professionisti di vari settori, con particolare riguardo a quelli non organizzati in ordine collegi. Nasce infatti anche ad Arezzo il coordinamento ConfCommercio Professioni per dare una voce unitaria al lavoro autonomo professionale, con la ratifica delle nomine del Consiglio e Direttivo di due nuove associazioni professionali, quella degli amministratori di condominio e quella degli psicologi. L'organizzazione nasce proprio per creare una sinergia nel territorio e valorizzare la professione, anche sotto la struttura che ci supporta e ci dà forza, che è quella della ConfCommercio. Quindi partiremo anche organizzando un open day di presentazione che possa in qualche modo valorizzare la nostra professione. La categoria ha bisogno della ConfCommercio perché ci aiuti a fare i nostri piani in maniera che, siccome sono vent'anni che le stiamo chiedendo e nessuno ci ha dato mai ascolto, con loro abbiamo fatto già un bel passo avanti, riconoscimento delle targhette, cerchiamo di fare queste lebbene del Telenco, di tutti gli amministratori che siano in possesso dei requisiti, questo numero blu che si è fatto per essere reperibili 24 su 24, e tutte altre cose che purtroppo non ci servono. Psicologi e amministratori di condominio hanno già stilato il programma di attività dei prossimi mesi. Oltre ai servizi specifici di assistenza agli associati, hanno predisposto anche una serie di iniziative promozionali rivolte al pubblico, per sensibilizzare sull'importanza dei loro ruoli. È il caso dello sportello condominio. Serve per tutte le notizie che i condomini hanno bisogno, e che noi daremo, se non subito, perché magari è una domanda un po' più compresa, il mercoledì successivo con il parere regale. La gestione dei pericoli del web sarà invece al centro dell'impegno dell'associazione Psicologi. Diciamo che ci concentreremo innanzitutto sul tema più rilevante in questo momento a livello sociale, che è quello di un crimine sociale importante del cyberbullismo. Grazie a tutti.